Entro massimo lunedì o martedì della prossima settimana arriverà il primo macchinario con mille tamponi donati dalla comunità di Montevarchi, quindi dai cittadini e dagli aziende. Penso che Montevarchi sia il primo comune in Italia che va in soccorso della sanità pubblica e quindi mette a disposizione del proprio ospedale un macchinario che dà una risposta su tamponi rapida in soli 20 minuti e mette a disposizione mille tamponi. Entrerà in funzione sin dai primi giorni della prossima settimana il macchinario per tamponi celeri acquistato grazie al fondo per l'emergenza coronavirus nato nel comune di Montevarchi e che ha raggiunto i 65 mila euro. Il macchinario per i mille test da effettuare sul personale sanitario in prima linea nella lotta contro il covid-19 sarà donato all'ospedale della Gruccia. Quindi un'operazione economica anche importante ma che permetterà come noi abbiamo richiesto all'ASL prima di fare i tamponi a tutti gli operatori sanitari perché so che ancora sia nelle strutture ospedaliere che nell'RSA che nelle altre strutture con soggetti più a rischio i tamponi non vengono fatti come la frequenza con cui si dovrebbe e poi però ho avuto l'opportunità di acquistare un altro macchinario che arriverà entro i primi di maggio con altri 800 tamponi che metterò invece a disposizione delle nostre RSA proprio per riuscire ad avere un controllo rapido e costante dello stato di salute dei nostri anziani e degli operatori che ci lavorano dentro. Quindi un esempio virtuoso di una comunità attiva che in questo momento dà una mano a tutti i propri concittadini alle fasce più debole, agli operatori e dà una mano al sistema sanitario nazionale che a quanto pare non è in grado poi di assicurare quel controllo di cui invece ogni cittadino avrebbe bisogno.